Organizzato dal gruppo di acquisto solidale Gas Valceno, un progetto di piccoli produttori per valorizzare i territori e i prodotti locali, in collaborazione con IAT Turistico e il Comune di Fornovo e con lo scopo di valorizzare maggiormente il centro storico del paese, ha visto con i loro tre standi prodotti di nicchia ravvivare Piazza 4 Novembre e Sualbero Natalizio. Prodotti naturali e biologici come confetture di mirto, corbezzoli, fichi, rabarbero, mele cotone, prugnole e lupini, siroppo di sambuco e liquori biologici di giugere, cedrina, nespole e bergamotto, agrumi, ortaggi, miele, provenienti da Collecchio, Medesano, Terenzo, Varsi, Bardi, a chilometro zero, in acqua solidarietà e verso i territori del sud come il Salento e la Calabria. Una vendita diretta dal produttore e consumatore con anche qualche risvolto sociale, come la lotta all'andrangheta. L'iniziativa rientra in un modo diverso di fare commercio dei propri prodotti, dove diventa basilare il rapporto diretto con il consumatore, i luoghi con forte passaggio di pedoni, i centri storici in cui la gente passeggia senza essere disturbata dagli autoveicoli, il tutto legato con altre iniziative e una dovuta pubblicità per attirare pubblico. L'iniziativa è durata una settimana e si è conclusa il mattino della vigilia di Natale, dopo la messa, agliettati sia dalle melodie di un dolce violino che dai piccoli suonatori della banda musicale fornovese. Grazie. Grazie a tutti.